dal 17 agosto c'è stata la nuova chiusura dei locali e delle discoteche che cosa succederà dove stiamo andando? ciao sono claude e oggi non vi spiegherò alcun tutorial oggi non faremo nessun spoiler oggi parleremo di noi dal 17 agosto come ben sapete ahimè c'è stata la nuova chiusura delle discoteche e dei locali dei clubs e tutto è di nuovo fermo dopo la riapertura che c'era stato in estate così come sono fermi anche i concerti i teatri di ogni genere i cinema al chiuso i palasport tanti eventi e anche gli stadi vabbè ma questo lasciamo perdere concentriamoci sul nostro mondo della nostra amata musica dove i lavoratori di questa musica e gli appassionati di musica sono fermi quindi sia i dj sia i produttori sia parlo dei musicisti quindi concentriamoci su questo che cosa ne pensate di questa scelta faccio questo video per coinvolgervi nei commenti a dire la vostra su cosa ne pensate su cosa suggerireste su dove stiamo andando e su che cosa sta succedendo quindi soluzioni costruttive non distruttive partiamo subito da che cosa ne pensate di questa scelta della chiusura visto che non possiamo incontrarci tutti nella categoria e dico categoria che è una parolona perché questa non è mai stata una categoria parlo dei dj e dei produttori ci sono stati tentativi di fare albo di registrazione cose ristrette non c'è mai stato una coesione forte come categoria e questo è stato un grosso errore infatti adesso ci troviamo in questa situazione anche per quello io vi chiedo di dire la vostra in modo garbato e costruttivo non tipico italiano come si sa fare sui social e come vediamo questo deve essere un mezzo per fare pensieri ad alta voce una sorta di brainstorming che io dico una cosa te la commenti la costruisci la modifichi e creiamo purtroppo in italia siamo abituati a fare distruzione piuttosto che costruzione dire male piuttosto che criticare positivamente o criticare in modo costruttivo lo dimostra il fatto di quanti dj olandesi ci sono a tomorrow di quanti ce ne sono italiani quindi è anche nel mondo perché le categorie negli altri paesi collaborano si aiutano magari con la giusta competizione noi invece si tende se sei sotto a buttare giù quello che è sopra dicendo male o dicendo cose false cercando di screditarlo piuttosto che studiare farsi il mazzo e capire come diventare almeno quanto meno come lui o superarlo questo purtroppo è un comportamento tipico nostro che siamo il miglior paese al mondo secondo me ma non su questo va bene detto questo che cosa ne pensate migliaia di famiglie sono a casa migliaia di lavoratori del settore dello spettacolo della musica anche della televisione perché molti programmi sono fermi insomma chi lavora intorno alla musica dietro ogni famiglia c'è una storia da rispettare anche se è vero che molti lo fanno come secondo lavoro quindi non proprio professionisti come si dice perché professionisti bisogna far capire una volta per tutto che cosa si intende per professionisti professionisti non vuol dire chi è più bravo io sono più bravo di te quindi sono più professionista e lo faccio da più tempo di te quindi sono professionista e professionista significa chi ci mangia con questo settore chi fa questo lavoro da anni e fa solo ed esclusivamente questo il resto non vuol dire che sono dilettanti che sono meno bravi il resto vuol dire magari che ha un altro lavoro lo fa come secondo terzo lavoro come ci sono molte categorie di dj di barman di security però tutte queste categorie anche se primo secondo terzo quarto lavoro sono in questo momento in difficoltà perché il settore è fermo è tutto fermo soprattutto i locali e i clubs però ora non stiamo a far la guerra fra occasionali e professionisti per chi fa l'empals chi paga l'empals chi fa i permessi sia e chi ha le tracce non in regola chi fa fattura chi fa agibilità adesso cerchiamo di ricomporre la torta e vedere cosa è rimasto e che cosa rimarrà anche perché ci sono quelli che fanno il secondo lavoro al quale è venuto a mancare il primo e per cui questa potrebbe anche essere una ancora di salvataggio e mettersi in regola in seguito poi non sta a me giudicare queste cose comunque sia andiamo a vedere e ad analizzare la chiusura delle discoteche ma soprattutto la riapertura che c'è stata se è stata giusta sbagliata se si è esagerato ci sono stati più pesi e più misure come al solito il settore delle discoteche dei clubs è stato messo nell'occhio del ciclone è stato bersagliato oppure alcuni hanno fatto i furbi hanno aperto e non parlo solo di gestori ma anche di dj e hanno lavorato dove non avrebbero dovuto lavorare dove non c'erano le condizioni alcuni si sono schierati come tanti dj italiani quali gabri ponte gigi d'agostino per fare dei nomi per non lavorare perché non c'erano le condizioni anche getta ed altri dj invece all'opposto come bob sinclar ora però non stiamo a vedere negazionisti o meno stiamo a guardare che bisogna essere tutti dalla stessa parte è stato quindi la discoteca è stato un po un capro espiatorio tutti i locali oppure realmente le discoteche hanno delle responsabilità sia gestori sia anche i dj i direttori artistici e tutti coloro che ci lavorano personalmente conosco molti locali che lo stavano facendo nelle regole e non stavano nei costi ovviamente ma ho visto anche un locale senza fare nomi qua vicino alle mie zone che durante un weekend aveva una fila interminabile di ragazzini tutti senza mascherina fuori dal locale ovviamente con tutti che potevano riprendere e mandare le immagini ovunque è chiaro che lì la distanziamento e tutte le norme adottate non sono state portate a termine era stato detto prima che bisognava convivere con questo maledetto virus e alcuni hanno fatto i furbi pur di riaprire pur di guadagnare pur di far qualcosa lo capisco perché alla fine pecuniano no let c'è bisogno sempre di soldi però cosa fai apri 20 giorni apri un mese per poi star chiuso un anno e far fare brutta figura tutta la categoria io vedo che tutti i locali ibisa e tanti locali non hanno aperto nel mondo quindi un motivo ci sarà però non è la mia opinione o quella di altri che contano qui è l'opinione di tutti insieme cercare di fare le cose bene e capire non darsi l'uno addosso all'altro io dico che molti hanno sbagliato ma molti hanno fatto anche bene hanno riaperto con tutte le condizioni secondo me le condizioni per un locale non c'erano obiettivamente perché come fai a riaprire un locale il locale è sempre stato punto di contatto non puoi riaprire un locale e far stare uno a distanza di due metri e nessuno socializza non puoi andare al bar e far la fila insomma sono cose che chi lavora in un locale lo sa bene io ci sono dentro da 34 anni e so come viene gestito un locale che cosa vuole il pubblico e che cosa vuole e che cosa può dare il personale può fare il personale giusto sbagliato che sia bisogna cercare di risolverla questa cosa perché siamo tutti dentro la stessa barca previsioni di riaperture scenari futuri quelli presenti e purtroppo ne siamo tutti al corrente che cosa potrebbe accadere a breve si modificherà il modo di fare musica potrebbe esserci un'evoluzione dello streaming come già è stato lo streaming online durante il lockdown quindi niente contatto insomma una sorta anche di dj set con gli ologrammi come accadeva prima con niki romero a sto punto dovrebbe essere il pubblico che fa l'ologramma come è successo un po con i set dj set di david getta da miami quello famoso che ha raccolto anche dei fondi dove tutti erano collegati con zoom o a fine il pubblico interagiva live in video da casa si è molto triste però potrebbe essere il futuro io sto guardando anche al futuro il presente purtroppo è tutto fermo inutile sta a parlare di quello che è fermo e di quello che non va parliamo di cosa succederà di come costruirlo questo futuro oltretutto adesso per lasciando sta reghetta per chi faceva gli streaming da casa sembra essere essersi messa molto male con facebook perché se avrete visto il mio video a riguardo sulla chiusura dal primo ottobre di facebook dei live streaming per problemi di copyright saprete di cosa sto parlando altrimenti guardatelo qua sopra quindi potrebbe essere più dura perché facebook sta cercando di fare una vera e propria guerra musicale a chi fa live streaming senza avere diritto di copyright quindi cerchiamo di capire quali possono essere le soluzioni per la riapertura spero a breve dei posti di lavoro di tutti i nostri posti di lavoro e di divertimento per il pubblico perché anche il pubblico ha diritto a divertirsi visto che andiamo nella stagione indoor quindi dei locali al chiuso e già è stato difficile come ho detto per la stagione all'aperto visto tutto quello che è successo e magari degli abusi che ne sono stati fatti e almeno in europa dico che andremo al chiuso canari escluso perché lì insomma è sempre primavera vediamo che succederà secondo voi che cosa potremmo fare per gestire i locali al chiuso e riaprirli oppure giusto lasciarli al chiuso fino a quando le cose non miglioreranno ma quando miglioreranno e soprattutto quanti clubs quanti locali hanno le spalle larghe per mantenersi vivi con i costi fissi le spese fisse il personale da mantenere la manutenzione il personale da licenziare perché poi alla fine questo è il problema loro malgrado hanno dovuto fare queste scelte ma si sa noi che ci lavoriamo da anni che quali sono i costi di gestione di un locale che anche con la riapertura parziale riusciva a malapena a coprire i costi di gestione perché se hai un locale di 2000 persone ce ne butti dentro 400 distanziate vabbè in qualche modo anche a far girare i tovaglioli con il ristorante basta e tenere il dj triste lì che dice ciuri ciuri e yam yam secondo voi guadagnano le cifre possono stare in piedi per quanto secondo me non per molto molti chiuderanno molti hanno già chiuso e non riapriranno oppure ci sarà un reinventarsi del club in qualche altro modo come ho detto con ristoranti con karaoke o altre cose questo lo chiedo anche a voi che ci lavorate come me come tutti noi credo che siamo qua a guardare questo video e a cercare di trovare una una soluzione che cosa suggerireste a chi prende le decisioni per noi per i lavoratori dello spettacolo un indennezzo fisso ovviamente parlo per i professionisti e per i gestori fino a un'eventuale riapertura totale molti dicono è ma i clubs hanno guadagnato sperperato fatto quello che volevano tanti soldi così come voi dj e professionisti avreste dovuto sapere gestire meglio e quindi adesso piangete miseria io lavoro e collaboro come ho detto con i club da 34 anni so come è fatto questo mondo e vi dico la verità molti colleghi che ho adesso sono sull'astrico e quindi parlo anche per loro che questa pandemia è su seguente chiusura di tutto il mondo li ha messi veramente in difficoltà poi c'è chi ha saputo gestirsi chi è stato più accorto così come i gestori chi ha messo via come una formichina per i tempi bui e adesso riesce a gestire sta lì alla finestra a vedere che accade per magari reinventarsi o cambiare situazione c'è chi si è svenduto per prendere più serate invece di far valere proprio valore facendone meno con maggior prezzo e qualità e adesso non gli bastano le riserve pure c'è chi ha fatto un po lo sborone a scialacquato in beni futili e adesso anche lui piange miseria e viene attaccato quindi lasciamo stare siamo tutti dentro chi ha gestito bene chi ha gestito male chi ha gestito così così adesso cerchiamo di darci delle risposte per il futuro e delle proposte di capire che cosa andremo ad incontrare nel futuro e tutto quello che potrebbe essere utile quindi la soluzione la piccola soluzione potrebbe arrivare anche da un dilettante da uno che fa una serata all'anno da uno che non è nelle regole che però magari mentalmente può avere l'apertura e la fantasia di capire che cosa è meglio per tutti noi poi ognuno la può criticare nei commenti come ho detto e implementare e modificarla questo è il modo di costruire qualcosa di importante per il futuro un po come fanno le grosse aziende prendiamo esempio da google e da altri marchi nel mondo dove si costruisce qualcosa fra tutti quindi come ho detto prima un brainstorming cerchiamo di fare una collaborazione fra tutti di pensare ad alta voce e cercare una soluzione unanime per tutti perché siamo tutti nella stessa barca oggettivamente belli brutti bravi meno bravi professionisti e non qualcuno adesso sta usando la frase di darwin che poi di darwin non è perché di leon c magginson professore universitario e saggista statunitense che cita non è la specie più forte la più intelligente a sopravvivere ma quella che si adatta meglio al cambiamento avrete sicuramente sentito dire e secondo voi è giusto è giusto adattarsi al cambiamento e anche pensare che tutto questo non ci sarà più e quindi reinventarsi in nuove situazioni ma quali o proprio cambiare lavoro e cercare altre cose settoriali o non settoriali che cosa ne pensate io vi chiedo di farci sapere la vostra esperienza in merito e le vostre soluzioni i vostri suggerimenti e i vostri commenti mi raccomando questa è una cosa che riguarda tutti quindi è importante oltre che a commentare e a condividere il video a coinvolgere anche i vostri amici i vostri colleghi che hanno fra virgolette lo nostro stesso problema o similare in modo da sentire anche la loro voce quindi cerchiamo di far squadra tutti insieme e di capire come risolverla ora io non mi voglio arrogare il diritto che questo video diventi una soluzione per tutti ci mancherebbe altro sono l'ultimo degli imbecilli però cerco di nel mio piccolo costruire qualcosa cioè di capire anche per me stesso ma anche per tutti voi per chi lavora in questo settore come andare avanti nel modo migliore quindi condividete e fateci sapere nei commenti questo è il canale youtube dove vi chiedo di iscrivervi sia per tutti i tutorial per gli spoiler e per le novità e anche per queste riflessioni che abbiamo fatto oggi attivate la campanella per essere avvisati di tutte le notifiche in anteprima e se vi è piaciuto il video mettete un bel like che a noi ci fa molto piacere per voi è una roba da nulla per noi è importante perché ci fa capire che siete lì e ci guardate ci motivate sempre ad andare avanti bene oggi è stato un po' atipico il video di os for dj quindi non ci sono stati tutorial non ci sono stati spoiler e nessuna novità su hardware o software ma c'è stato una riflessione un video serio fra virgolette che parla di noi ogni tanto bisogna parlare di noi anche a voce alta per far capire agli altri in modo educato che cosa pensiamo al momento oggi è un momento particolare per tutti noi per cui vi chiedo di fare un commento dire la vostra e cercare di dare una soluzione costruttiva a questa situazione che stiamo vivendo bene detto questo vi ringrazio come sempre per l'ascolto condividete questo video adesso es for dj e claude ci vediamo sempre qua ciao ciao